In preparazione dell'Expo Universale che si terrà a Milano nel 2015 sotto lo slogan Nutrire il pianeta, il PD nazionale visiterà 5 eccellenze produttive in Molise, Campania, Puglia, Emilia Romagna e Toscana che si sono distinte per la crescita e l'innovazione della filiera agroalimentare. Il tour è partito in mattinata proprio dal Molise, una delegazione guidata da Roberto Ruta e composta da Corrado Martinangelo, Franco Di Biase, responsabili del forum agricoltura nazionale e regionale del PD, l'onorevole Laura Venitelli e l'euro deputato Andrea Gozzolino ha visitato un'azienda produttrice di pasta, la Molisana, che in due anni ha incrementato il proprio fatturato del 140% sfiorando come gruppo i 100 milioni di euro annui. Due ragioni fondamentali, la prima Expo 2015 ci saranno 60 milioni ed oltre di visitatori di aziende che andranno a cercare i prodotti migliori d'Italia e noi dobbiamo essere presenti come Molise con il meglio che abbiamo per fare in modo che noi si possa scommettere con convinzione sulle filiere agroalimentari di questa regione e del Mezzogiorno d'Italia. La seconda ragione è in un momento di così grave crisi e di disinvestimenti aziendali che verifichiamo ogni giorno su questo territorio, abbiamo aziende che si sono rimboccate le maniche, che fanno produzione in termini positivi, aumentano in maniera straordinaria il fatturato e noi dobbiamo stare a fianco esattamente delle aziende che riescono a produrre di più. Ad accogliere la delegazione del PD Rossella Ferro e l'amministratore delegato Giuseppe Ferro. Un fatturato cresciuto in due anni e mezzo da 16 milioni a oltre 70 milioni di euro. come ha fatto? Non ci sono ricette magiche, abbiamo lavorato molto, investito moltissimo, continuiamo a investire negli ultimi prossimi sette mesi quasi 10 milioni, magazzino automatico, trigenerazione, confezionatrici nuove, un altro deposito per gli imballi secondari, c'è la fana a cartoni, molto nel marketing, nell'immagine, nella trafilatura del prodotto, due anni molto 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 intensi. Avete conquistato 30 nuovi paesi per la vendita del prodotto? L'export è estremamente importante, punteremo sempre di più sull'export. Abbiamo messo 30 paesi nuovi oltre quelli a cui vendevamo, un risultato estremamente importante, e due del BRICS, quindi la Russia e il Brasile, con risultati a tre cifre e con numeri impressionanti di crescita. Per Andrea Gozzolino il prodotto italiano deve essere tutelato sui mercati internazionali. Va tutelato in Europa ma va tutelato soprattutto sui mercati emergenti. Come è stato qui ricordato anche dalla Molisana, che sta investendo molto in Brasile e in Russia, occorre che poi questi nostri marchi siano difesi su questi mercati. Per questo abbiamo bisogno di una nuova politica europea, che non dia solo risorse all'agricoltura nel mezzogiorno in Italia, ma dia anche strumenti di difesa commerciale. Grazie. Grazie. Grazie.